il fondo della mia bellissima tv ragazzi vi farò vedere cosa come si vive a isola dalmeno una settimana perché hanno staccato il quadro elettrico farò vedere come si vede vedere come è luminoso qui avete visto qualcosa perché io non vedo niente nel video si è visto completamente nero pensate nella vita reale adesso vi farò vedere come si vede come one torch si sono viste delle lucine piccoline nel video quelle sono l'unica cosa che brilla gli occhi di gatto che ha messo mio padre nell'orto visto come è buio nel video la torcia non fa molta luce ma anche nella realtà io quando vado a prendere la corriera è così non vedo niente infatti questa devo tenerla così per farmi vedere dalle macchine e anche il martedì quando lasagne anche il martedì quando non c'è mio padre che mi viene a prendere il martedì perché arrivo a 5 devo aspettare la corriera che arriva alle 6 alle 6 è buio devo farmi dalla chieda fino a qua e sono 300 metri completamente al buio completamente al buio 300 metri poi isola c'è c'è il monte sono cinque minuti video sono venuto 38 2 pubblicità comunque io visto che sono pure qui in montagna isola montagna vicino con la campigna sto casso rompi che c'è il rischio di lupi qui io devo andare completamente al buio 300 metri poi c'è la discesa io mi devo fare 100 metri in discesa e tu cosa mi dici al buio che se io in ciampo russolo e muoro muoro si perché sono da lì 100 metri si poi dalla che c'è la curva perché c'è una curva e c'è l'incrocio fino all'incrocio sono 50 quindi 50 arriva a casa mia solo no sono 200 metri 200 metri io mi devo fare al buio che poi l'altro giorno quando andavo nella scuola che avevo perso la pulmina e corgnola mi ha parlato mio babbo lì laggiù c'è il cantiere ma lì non si vede non l'abbiamo visto c'è il cantiere il camion fermo lì boom momento in frontale madonna poi quando arrivo con i martelli pneumatici non ho messo manco i cartelli per il rischio perdita udito ho messo solo quelli per il lavoro in corso lasagne ciao 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 i baffi perché sembra la mascherina non mi si vede non guardate le padelle quello sembra questo sembra il gong di lion quindi ciao